Nell'alta valle del fiume Metauro, una graziosa e pittoresca cittadina, Castel Durante, partecipò alle sorti del Ducato di Urbino e mutò nome, divenendo nel 1636 Urbania, in onore di Papa Urbano VIII. Tra i tesori storici e artistici della città, certo risplende il Palazzo Ducale. La facciata esterna del palazzo si specchia sul letto del Metauro. Il fronte scarpato e a strapiombo è stretto tra i volumi di due caratteristici torrioni. L'interno si organizza intorno a due cortili. L'impianto generale fu progettato dall'architetto senese Francesco Di Giorgio Martini. Nel Cinquecento subì interventi di restauro e abbellimento ad opera dell'architetto Girolamo Genga. Un periodo di massimo splendore del palazzo fu quello di Francesco Maria II della Rovere, che lo scelse quale sede ducale prediletta. I saloni al piano nobile ospitano le raccolte della Biblioteca Comunale, della Pinacoteca e del Museo Civico. Il materiale è raro e pregevole, dipinti, incisioni e disegni di artisti straordinari come Federico Barocci e Carlo Ridolfi, manoscritti e cinquecentine, due globi geografici del fiammingo Gerardo Mercatore. È possibile ascoltare un approfondimento della Pinacoteca del Museo nel percorso storico-artistico. Non manca la sezione dedicata all'arte ceramica, fiore all'occhiello dell'artigianato artistico Durantino sin dai tempi più remoti. Al visitatore appassionato di ceramica si consiglia inoltre di visitare il Museo Diocesano della città, che raccoglie centinaia di maioliche locali. E la piccola tavola del tè era pronta con tazze e sottocoppe in maiolica di Casteldurante, antiche forme ed inimitabile grazia. Così Gabriele D'Annunzio celebrava la ceramica Durantina nel suo romanzo Il Piacere. Casteldurante emergeva in questa arte sin dal Medioevo, periodo in cui le botteghe iniziarono a produrre manufatti in maiolica. Sulle rive del Metauro la produzione di ceramica trovò terreno fertile, poiché l'argilla, la legna per i forni, gli ossidi metallici per i colori si rinvenivano facilmente, mentre lo stagno giungeva dalla vicina via Flaminia. Come per Urbino, Pesaro e altri centri metaurensi, il massimo splendore di Casteldurante fu favorito dalla presenza dei duchi della Rovere, in epoca rinascimentale. A questa fioritura contribuirono gli interventi dei pittori che operavano nel Ducato. Artisti formatisi a Roma dovrebbero modo di imitare e studiare i modelli lasciati dai grandi maestri del Rinascimento, come il divin pittore Raffaello. I ceramisti Durantini si dedicavano anche all'invenzione di tipologie e di decorazioni proprie e all'illustrazione delle istorie, racconti biblici e mitologici. Nacque così un genere che elevò la fama di Casteldurante e che dalle istorie prese il nome di Istoriato. All'epoca la cittadina vantava oltre 40 botteghe di artigiani impegnati in Italia e in ogni angolo d'Europa. Artigiani richiesti da una committenza ricca e raffinata. Nella città furono censiti ben 150 maiolicari tra plasticatori e pittori, alcuni di eccezionale bravura nell'ornamento e nelle figure. Zoan Maria, Simone da Colonnello, i Dolci, i Picchi, i Fontana. I capolavori Durantini si ammirano oggi nei musei di tutto il mondo. All'Ermitage di San Pietroburgo, al Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum di New York. Il percorso di visita alla scoperta dei segreti della ceramica durantina inizia nella terza sala del museo, dedicata ai disegni antichi della collezione Ubaldini, illustre famiglia di Casteldurante. Tra i fogli conservati si annoverano schizzi e stampe di ceramisti e pittori, modelli realizzati per essere riportati sulla superficie ceramica. Opere grafiche del Tardo Cinquecento e del Seicento, scaturite dalla mano di grandi maestri, quali Giorgio Picchi, i Fontana, i Polito Rumbaldoni. Alcuni fogli sono attribuiti all'eclettico Cipriano Piccolpasso. Nativo di Casteldurante, fu architetto di fortificazioni, ceramista e pittore di maioliche. È celebre per aver redatto nel 1548 il primo manuale di tecnica e arte della ceramica. Usano gli uomini dell'arte dei vasi nella città di Urbino, la terra che si coglie per il letto del metauro e quella colgono più nell'estate che per altri tempi. Quando cascano le piogge nell'appennino, alle radici del quale nasce il detto fiume, ingrossano le sue acque e si fan torbide e così, torbide, camminando per i suoi letti, lasciano quelle parti più sottili del terreno che nel venire all'uingiù rubano a questa ed a quella sponda. Ingrossano queste parti su per le arrene di detto fiume un piede o due. Queste colgonsi. Molti sono che le lasciano seccare al sole e dicono che si reggono meglio nel lavorarle. Altri dicono che conviene di nuovo mollarle, così rimollandosi si fanno più pure. L'una e l'altra sorte ho veduto ad operare io, senza conoscervi molta differenza, perché lo avvertimento è di coglierle nette dalle radici delle erbe e dalle foglie degli alberi. Il medesimo metodo si tiene nella terra di Durante, patria mia, la qual da tre lati bagna il metauro. Sono le prime parole dell'opera di Cipriano Piccolpasso, gli tre libri dell'arte del vasaio, il cui manoscritto originale è conservato al Victoria & Albert Museum di Londra. Dal trattamento delle argille, alle tecniche costruttive, agli strumenti utilizzati, fino alle dosi degli impasti e dei colori, Piccolpasso non tralascia nessun segreto, nessun consiglio, restituendo un universo di conoscenze tecniche e scientifiche, e di credenze magiche ed esoteriche. Abbandonata la sala dei disegni, il percorso prosegue nella galleria sopraelevata, con una pittoresca veduta del verde metauro, da cui si accede ad una sezione dedicata alle maioliche durantine. I reperti, databili tra il 400 e il 700, provengono da sterri e ristrutturazioni di edifici religiosi e privati del centro storico, effettuati dagli anni 50 ad oggi. Particolarmente fruttuosi sono stati i recenti scavi di Porta del Molino, sotto le mura del castello, dove si trovava un butto, ovvero una discarica di epoca rinascimentale. I frammenti rinvenuti propongono un'ampia gamma di tipologie decorative e formali della produzione durantina. Piatti, ciotole, coppe, bacili, crespine, boccali, anfore e albarelli, ingentilite da ornamenti a fiori, stemmi, festoni e dal genere detto istoriato. Nella prima vetrina, a sinistra, si ammira uno dei pezzi più pregiati della collezione. Un boccale con cavità svasata, decorato con uno stemma, nel quale si distingue l'aquila, simbolo araldico dei Montefeltro, racchiusa da una corona di foglie d'ulivo e piccole bacche. Il boccale era utilizzato per contenere liquidi e bevande e non poteva mai mancare nelle tavole da pranzo rinascimentali. Un armadio con ante aperte custodisce altri tesori. È degna di nota una crespina, un piatto contesa ondulata. Al centro, un piccolo eros, dipinto su fondo giallo, sostiene due ramoscelli. Dall'emblema si diparte il motivo detto acerquate, un ricco decoro con foglie e ghiande. Le ghiande, frutto della quercia, albero altrimenti detto rovere, compaiono in omaggio ai duchi di urbino, i della rovere. Si tratta di un oggetto celebrativo, forse donato in occasione di un fidanzamento. La tavolozza cromatica predilige il giallo, il verde e il blu. Accanto si ammira parte del profilo di una bella donna. Si tratta di un genere assai diffuso che, proprio a Castel Durante, ebbe origine. Busti policromati su fondo blu, accompagnati da un cartiglio con il nome e l'aggettivo bella. Le belle donne erano doni amatori, fatti per il fidanzamento o per le nozze. Non erano veri ritratti. Gli stessi modelli si usavano più volte, con poche varianti. Alcuni frammenti pittorici di occhi e volti, di soldati, amorini e donne, testimoniano la maestria dei ceramisti pittori, attenti ad una restituzione fisionomica naturalistica, armonica ed espressiva. Di seguito si ammira un recente acquisto, l'albarello istoriato appartenente alla famiglia Boerio di Palermo. L'albarello era un vaso da farmacia usato per contenere spezie, prodotti d'erboristeria, unguenti. Questo esemplare riproduce l'istoria biblica di Mosea al cospetto del rovetto ardente e fu realizzato nella prolifica bottega dei Picchi, attivi a Casteldurante, nel Cinquecento. Le cromie brillanti si esaltano vicendevolmente. I motivi decorativi, desunti dalla tradizione classica, sono rielaborati dalla fantasia del pittore. È uno stile spensierato dove la cultura dell'antico convive con un gusto genuino e popolare. Di seguito altri frammenti testimoniano le tipologie decorative durantine. I soprabianchi, piatti dipinti con finti ricami e pizzi nella tesa. Il decoro alla porcellana, con decorazioni geometriche e floreali, blu cobalto su smalto bianco. Il compendiario, caratterizzato da uno smalto coprente e lucido, vivacizzato da una tavolozza di colori freddi. Le raffaellesche, tipologia decorativa ispirata agli affreschi di Raffaello nelle loggie vaticane, desunti a loro volta dai motivi ornamentali scoperti nella Domus Aurea di Nerone. L'erudito pesarese Gian Battista Passeri, nella sua celebre Historia delle pitture maiolica, riporta in che modo si diffusero i modelli per l'istoriato e per le raffaellesche, soffermandosi in particolare sull'apporto della corte ducale. Guido Baldo, dunque fatta raccolta grande di tutte le bozze di Raffaele e dei suoi scolari, quante più ne poté avere? Le propose per modelli agli artefici delle sue officine e da quelle in specie che lavoravano per suo conto, nelle quali avea uomini abilissimi per ricopiarle. Ecco dunque la ragione del bell'equivoco che le vaserie metaurensi fossero dipinte da Raffaele, ma si lavorò tanto nelle sue carte che nelle nostre maioliche dà subito negli occhi quel carattere raffaellesco. Si osservano ancora motivi a festoni e ghirlande, brani di istoriato e di belle donne, i trofei, con decorazioni di scudi e armature, che come vuole piccol passo. Sono in uso dappertutto, vero è che gli trofei si fanno più per il stato di urbino che in altro luogo. La bellezza dei manufatti Durantini si deve alla raffinatezza esecutiva, alla brillantezza dei colori e alla perfezione formale delle figure. I duchi favorirono sempre le botteghe dei maiolicari Durantini, permettendone una produzione di ottimo livello, con committenze per omaggiare la propria casata e per regalare ad alleati politici doni d'effetto, di alta qualità. Le maioliche Durantine non erano esclusivamente finalizzate all'uso quotidiano di contenere cibi e bevande. Rappresentavano infatti un bene di lusso, un simbolo della nobiltà, della ricchezza e del buon gusto di chi le possedeva. Poiché le maioliche Durantine ebbero la pretesa di far scintillare d'oro la creta dei fiumi e, sopra, di dipingervi le storie più belle. Il percorso prosegue in uno dei torrioni. Un ambiente circolare, con finestre aperte sul metauro e sui mattoni ocra del centro storico, raccoglie la ricca collezione di ceramiche d'uso donata da Nadia Mauri Poggi. I manufatti di uso quotidiano provengono da tutta Italia, sono divisi per regioni e documentano la vita quotidiana in epoca preindustriale. La raccolta è inglobata in un itinerario di ceramiche popolari italiane, che coinvolge anche altri musei della penisola. L'esposizione prosegue con le opere del ceramista sardo Federico Melis, che ha saputo recuperare temi e motivi della Sardegna folcloristica, coniugandoli con il gusto delle avanguardie novecentesche. Negli anni quaranta, Melis si era trasferito a Urbania, attratto dall'amenità e dal fascino del luogo, che evocava i bagliori delle antiche botteghe. L'artista fu un instancabile animatore di iniziative volte al recupero della tradizione e alla nascita di nuove botteghe. Oggi, a Urbania, sono ancora attivi valenti ceramisti. La cittadina è l'unica della regione Marche e una dei 36 comuni d'Italia ad esibire il titolo di «Zona di antica tradizione ceramica», sia per l'altissimo livello della sua produzione rinascimentale, sia per l'attività degli artisti contemporanei, che ne proseguono la tradizione. Attualmente il museo provvede alla ricerca, produce pubblicazioni e organizza mostre sulla ceramica, avvalendosi di importanti specialisti del settore. Ogni anno, a giugno, la Festa della ceramica richiama a Urbania appassionati e turisti di ogni parte d'Italia, con laboratori, seminari e mostre. Si invita il visitatore a percorrere le vie del centro storico, alla scoperta dei rinnovati smalti, colori e bagliori che risplendono nelle botteghe dei ceramisti moderni, dove la tradizione dell'istoriato rinascimentale convive con le nuove sperimentazioni, come la tecnica Raku, di origine giapponese, i cui prodotti dai riflessi metallici sono di grande impatto emozionale. La città ha recuperato la sua storia, le sue tradizioni e le valorizza come risorsa per il suo futuro. Il percorso prosegue a San Lorenzo in campo, con la visita al Museo delle Terre Marchigiane. La scoperta delle bellezze della provincia continua con i percorsi archeologico, rocche e castelli, storico-artistico e arte contemporanea. Grazie a tutti.